Ciao a tutti ragazzi, qui è nuovamente Nava dello staff di GameStart News Eccoci con il settimo capitolo di Halo 4, compositore Qui cinematica naturalmente di presentazione del livello dove avevamo lasciato Master Chief Che era riuscito a in poche parole unirsi alla flotta del precursore All'interno della sua mega nave distruggi tutto Riuscito ad abbordare una navice aliena e fare salto nel di per spacco Grafica spettacolare, l'universo davvero molto curato Ecco l'installazione, Halo E' vicino alla base appunto dove stanno studiando il compositore e gli umani Inseriscimi nella console Ecco Master Chief che scelisce Cortana Cortana inizia a diventare un po' fuori di testa Parte con la volgarità in questo caso Naturalmente la cinematica si spiega da sola Non riesce a controllare bene la navicella Cortana ed eccoci sbarcati sulla stazione Un attimo di pausa del caricamento Vabbè sensi di colpa naturalmente perché è più che giusto Visto il casino Eccoci qua Qua a premare c'è quella specie di portale Quella cosa strana che passandoci in mezzo consuma un po' gli scudi Non è ben chiaro a cosa serva Naturalmente la sua funzione nel gioco Sembra il test che facevano in Halo 1 Per calibrare appunto il tempo nel quale gli scudi ci mettevano a rigenerare Troviamo dei Marine dei Covenant morti Proseguiamo Proseguiamo sempre la strada Niente di complicato Ed eccoci già nel pieno dell'azione Grunt e Jakar che assaltano i dottori scienziati umani Hanno già fatto a pezzo quasi tutti i Marine Qua in questa parte delle livelle Affrontiamo qualche Rift Ecco lo solito fucile d'assalto Giusto Giusto per gestircela meglio con appunto le unità piccole Qua di fronte a noi naturalmente c'è Siamo in un'area di gioco dove la mappa si svolge pressoché tutto al chiuso Si presenta una nuova arma ovvero questa pistola detonazione Che spara appunto questi proiettili appiccicosi Che si possono fare detonare quando si pare come del C4 Esplosivi estremamente potenti Arma che alcuni utilizzano nel multiplayer molto spesso La vanno a ricercare poiché è San Musara E' possibile utilizzare anche come mine Danni assicurati Naturalmente è un potente esplosivo Attenzione alle difficoltà più alte Poiché quest'area del livello è piena di cecchini Di cecchini Jackal E Elite 08 invisibili Infatti bisogna fare particolare attenzione Bisogna fare particolare attenzione agli angoli Se vedete delle lame energetiche In giro perché Appunto è stra frequentata da questi alieni bastardissimi Che possono attaccarvi da tutti i lati Senza lasciar di scampo Difficoltà facile Non smetterò mai di ripetere Naturalmente muoio Perché preso un po' dalla fretta Mi vado a fare schiacciare Riprendiamo la pistola a detonazione A distanza DMR Cambiamo un po' l'equipaggiamento Qua abbordano I Phantom Abbordano la stazione continuamente A difficoltà più alte Vi chiederete se appunto sono infiniti No tranquilli Non sono infiniti Voi fate fuori ondata su ondata Rimanendo nascosti E gestendo verrà il meglio Esplosivi utilizzateli molto spesso All'interno dei corridoi È una tattica che funziona Perché hanno poca via di scampo I Covenant Altro Phantom Attenzione quando arrivano i Phantom Con i loro cannoni A difficoltà più elevate Perché sono capaci di farvi a pezzi In un attimo Oppure vi devono i scudi E lasciando fare E poi lasciandovi dare il polpo di grazia Dai passeggeri Che sganciano continuamente Utilizziamo un po' delle nuove armi La qualità grafica Si vede L'alo rifatto Estremamente impressionante Una godura per gli occhi Proprio Continuiamo Continuiamo Secchiamone alcuni Naturalmente qui bisogna Fare i fuori tutti Per procedere Nel corso del livello Uccidete tutti gli Elite Il Jackal E i Grunt Che vi vengono addosso Naturalmente quella porta Non si aprirà Fino a quando Non le avete sterminati Eccoci qua Solita Solite Naturalmente Strutture umane E elaborate Finalo 4 Grafica Sempre la cosa migliore Facciamo Perdiamo un attimo di tempo Per rifornirci E poi proseguiamo Qua naturalmente È un po' lento L'apertura Di quella porta Non si capisce bene Vabbè ragazzi Però si deve dare una mossa Eccoci qua Ecco L'utilizzo di granate In questo livello Utilizzatele sempre Perché Intanto ritrovarvi L'inventario pieno di granate Cioè Ritrovarvi pieni di granate Al fine del gioco Vi farà riflettere Su quando non le avete utilizzate Voi utilizzate sempre Tutto quello che avete A disposizione Senza porvi Dei particolari Problemi Per degli sprechi Anche perché Granate Ed esplosivi Vari Qui In un compositore Nella missione 7 Ne troverete a varanghe Proprio il gioco Propone di utilizzare Appunto Armi esplosive E armi A media A corta distanza Ok Ci ritroviamo Con degli altri Marini Attenzione Che qui E' pieno di grunt Salite le scale L'obiettivo Della missione Naturalmente E' raggiungere La dottoressa Cercare di mettere In salvo L'equipaggio E poi Trovare il compositore Che sarebbe appunto Questa super arma Di precursori E non farò Non farò Prendere Dal Per più Sole Dal Di Danza Attenzione Agli elite Armati di fucile A combustione Questo Lancia Che è nato Alieno Perché se voi Tentate di Andare Incontro Corpo a Corpo Questo fucile Se vi arriva Un proiettivo Oppure vi prende Per il suo Raggio D'azione Naturalmente E' capace Di rallentare I movimenti Mettendovi In situazioni Davvero Critiche Quest'arma Pressoché Viene utilizzata Per cappottare Warthog Nel multiplayer O rallentare Ghost Eccetera E' abbastanza Forte contro I veicoli I veicoli Piccoli Quelli leggeri C'è un po' Da ricognizione Ecco qua Troviamo dei cacciatori Utilizzate Utilizzate Il detonatore A distanza Cercatelo di Di sparare Nelle parti Poco esposte Cioè poco Nelle parti Esposte Della loro carne Non coperte Dall'armatura E Fate Cioè Portate a termine L'obiettivo Quindi faccio ammazzare Perché Naturalmente Non trovo Munizioni Per Per la pistola A detonazione Sì Casomai Indebolitevi Un po' Con delle altre Armi Ecco Naturalmente Come esplosivo I cacciatori Ne risentono Colpite la schiena I punti deboli Dei cacciatori Sono naturalmente Le parti Esposte Arancioni Questo esplosivo Estremamente potente Anche perché Se io Piazzate Nella parte Molle E lo fate Detonare Due colpi E lo uccidete Ecco Obiettivo Completato 20G Incollagliela In questa parte Del livello Utilizzatelo Naturalmente Portate a termine Questo obiettivo Visto che non è in usa Di complicato Approfittatene Ecco Qui ci ritroviamo In un'area Piena Di registri Terminali Che approfondiscono Di più La storia Riguardo a questi Manufatti Dei precursori Se volete informare Naturalmente Andate dai Dai vari schermi Cliccate X E appunto Ascoltate Ecco Il vecchio E caro Indice Attivazioni Degli Aro Scienziati Inutili Se qua Ria Non è Non è Molto utile Ria Alleata Sono capaci Solo di Farsi Ammazzare E creare Casini Nel peggiore Dei casi Mi ricordo Proprio Marine Tu che guidi Il Warthog Warthog Con lancia razzi Con lancia razzi Multipli Roba che Passare dietro D'un ostacolo Mentre ci sono Dei nemici Il Marine Si mette a Sparare E far saltare In aria Tutto Compresi Voi Non affidatevi Mai All'I.A. Di questo Gioco O quella Reata Cioè Insomma E così Non sono Abbastanza Come si può Dire Abbastanza Rissoluti Nell'affrontare I vari Tipi di Combattimenti D'altronde L'eroe Siete voi Buonare Buonare Questa La dottoressa Tilson Che vuole Naturalmente Cercare di salvare I progetti E le varie ricerche Condotte All'interno Di questa stazione Quella cosa Non andrà da nessuna parte Ecco Qua naturalmente Questo compositore Che è una super arma Gigantesca È davvero gigante Non si può Portare da nessuna parte Come dice lei Vediamoci Chi se ne frega Naturalmente Una sola Potrebbe distruggere La base Ecco Mine AVO Che sono Delle Mine appunto Da Cioè Da spazio Da operazioni Appunto Nello spazio Giavità 0 Servono appunto Per distruggere Le navi nemiche Vogliono utilizzare Una di queste mine Per distruggere La base E in poche parole Non fare Per elevare Il compositore Al didatta Il didatta Il compositore Al prossimo salvataggio Potreste darci il tempo Per fare i bagagli D'accordo Ok Ci ritroviamo In una nuova Del livello Aspettiamo Che queste porte Si aprono E proseguiamo Stendiamo tutti i nemici Che ci troviamo Di fronte Mi ricordo ancora La frase Di Master Chief Che pensava Di farsi strada Sparando Naturalmente Questo gioco È così Dovete sparare Amare la potenza Delle armi Di sterminare Tutti i nemici Che vi trovate Di fronte Giusto per godervi Il gioco Ecco qui All'interno Di quest'area Dove c'è il compositore Al centro Ci sarebbe Un tunnel Dove c'è Un terminale Io naturalmente Lo sto cercando Adesso lo troverò Un attimo Di pazienza Così vedete Precisamente Dov'è Esploriamo Un po' L'area Troviamo Dei mantis Che Vabbè Non Sì Troviamo Dei mantis Armi Di vario genere Sì Mettetevi A cercare Naturalmente I terminali Quando ne avete La possibilità Perché Sia Sbloccarvi Degli obiettivi Che inoltre Utilizzando In Allaway point Ecco Un altro Registro Utilizzando In Allaway point Vi possono Dare Esperienza Spartan Gratuita Per dire Per il Multiplayer Nuove armature Equipaggiamento E Specializzazioni Sono una cosa Da non Teascurare Nel Multiplayer Marine Che chiacchiera Prendetevi Tutto il tempo Che volete Ecco Questo qui È il tunnel Dove dovete Infilarvi All'interno Del quale Trovate Terminale Nascosto Io ho fatto Tutta la strada Con terra Naturalmente Avete visto Un po' La mappa Com'è Quando si dice Sbagliando Si impara Almerie Imparate a riconoscere Le almerie E Non Non scarseggerete Mai di munizioni Dobbiamo Aspettare Che lui Si alzi Perché Si sa Rapigano All'edizione Attivare Questa porta Ecco Cos'è successo Cos'è successo Non si sa Cosa cazzo È successo Per dire Morire La difficoltà Facile La maggior parte Delle volte È per questa Assurdità Eccoci qui Tunnel di servizio Si può ricordare Naturalmente La pillola Votum Missione Di alo 1 Sti tunnel di servizio Ci si va a finire Sempre Sempre Comunque In qualsiasi alo Già Kargrunter Fatte Le fanterie Di piccole dimensioni Qui qualche lift Cioè Niente In fondo In fondo Se proseguite Con calma Difficoltà Alte Questi Non creano Particolari Problemi Cioè Nessun nemico È capace Di crearvi Problemi A parte I cavalieri Prometeici Bastardissimi Con i loro Teletrasporti I crawler Che vengono A stanarvi Perché Vabbè Quelli là Naturalmente Un attimo Un attimo Di pazienza Li affronterete Tutti Ecco Ci ritroviamo In un'altra area Dove A me ricorda Le camere Tipo Delle Scialuppe Di salvataggio Degli alo Precedenti Fate fuori Tutti I covenant All'interno Dell'area Il più Velocemente Possibile Come potete Notare Ne entrano Altri Successivamente Avvicinatevi Alle porte E cliccate Su quel tasto Lì Cioè Premette X Attivate E I covenant Verranno Risucchiati Fuori Cioè Facilitandovi Notevolmente La missione Approfittatene Appena vedete Che si sta riempendo Una camera E che il bottoncino Diventa verde E promettelo Arriverete Se qua Lo fate Abbastanza Velocemente Potreste Anche Utilizzare La Meno Della Metà Delle Munizioni La Difficoltà Legendaria Ne entrano Di più Di Nemici Difficoltà Eroica Un po' Meno Del Leggendare Ma Sempre Di più Delle Altre E così Via Quindi Anche La Quantità Di Nemici Varia A Seconda Delle Difficoltà Uccidete Le Ritte E Grunt Passeranno Da Armi A Distanza Kamikaze Ecco Di Queste Strategie Solo Alcuni Particolari Tipi Di Grunt Procederanno In Questo Modo Che Sono Quelli Imperiali E A Volte Quelli Ultra Gli Altri Invece Sono Più Propensi A Scappare A Farsi Prendere D'Alpani Qua Troviamo Un'area Dove Ci sono Dei Marini Insieme A Dei Scienziati Fate Rifornimento Di Armi Pistole Naturalmente Carica Esplosiva Fucili A Pompa Possono Essere Sempre Utili E Autosentinelle Come Potere Dell'armatura Sì Io Lo Scudo Non È Che Lo Utilizzo Morto Viene Utilizzato Nel Multi Player Naturalmente Dipende Come Si Preferisce Giocare Comunque Sì Autosentinella È Sempre Utile Casomai Ci Si Nasconde Dietro Degli Angoli Visto Che Quando Si Procede Con L'attivazione Di Quel Potere La Sentinella Compare A Due Metri Di Distanza Da Noi Due Metri Un Metre E Mezzo E Se Voi Potete Rimanere Nascosti Dietro L'angolo E Eccoci qui Altri gruntini Simpaticissimi È stato sempre un piacere fare a pezzi Questi qua più che altro carne da cannone cioè Servono per fare di scaricare le munizioni Quindi colpite sempre in testa con la pistola, DMR o fucile da battaglia, carabine eccetera Tutte le armi che sono abilitate a red cotto utilizzate così risparmiate munizioni e Nel migliore dei casi potete anche fare più danni di un esplosivo A dei protoni di grunt Ecco Camere barometriche Camere barometriche Boh Queste maldette camere a pressione che si riempiono di grunt Già Calerite Affrontate quelli All'interno Già all'interno della stazione Occupatevi di quelli all'esterno in questo modo Come potete vedere Vi Un sacco di problemi ve li risolvete Li evitate Se no se è troppo tardi Lanciate una granata all'interno appena è propensa ad aprirsi una di queste sale Una di queste camerette Bello vedere i succhiati fuori Piacevole Sempre un po' di soddisfazione Bisogna sempre prendere da Appunto queste Queste tre appole ambientali Si rimane un unico giacca Ecco qui Attenzione perché Adesso sono armati di carabina Difficoltà facile Ma difficoltà maggiori Sono armati appunto di fucile Da cecchino alieno Da cecchino alieno Cosa che fa notevoli danni Capace di Si Fa notevoli danni Date sempre la precedenza ai cecchini Perché è un solo Un solo dei loro colpi E voi avete lo scudo un po' consumato E Davvero problematico come cosa Qui troviamo degli elite Occhio all'elite Zelota Ultra elite O chiamatelo come vi pare Armato di Spada Appunto Di una lama energetica Cortana naturalmente All'apice della sua sadicità Chiede di essere inserita nella griglia Sterminare un po' di navi aliene Allora Cortana sta riattivando la griglia difensiva Eccolo Anche lei si vuole divertire In fondo in fondo La carica La stiamo armando Vediamoci di sotto E raggiungeremo il manufatto Io ragazzi Non so se il video su youtube Ha la stessa qualità grafica Che è su un televisore hd Ma comunque Cioè Bellissimo Paesaggio Distruzione Proprio Fenomenale Alsi I parano di alsi Avanti E avanti E avanti Altri grunt Altri jackal Solita storia Attendete che le porte si aprono E proseguite Assassinate Riempite di pallettoni L'importante è che li uccidete tutti Qui un piccolo posto di blocco Lanciate qualche granata Ben piazzata E E anche di problema risolto Ecco grunt Kamikaze Poi questi bastardi Li vengono a cercare anche dietro gli angoli Invisibilità Invisibilità perso che è inutile contro un'IA nemica Adesso dovremmo giungere all'esterno della struttura Per allentare appunto I Covenant I Covenant Naturalmente trovano il compositore prima del didatta Lo segnalano appunto al didatta E il didatta adesso sa dove è il compositore Attenzione Attenzione Naturalmente Capitolo Tutto ciò che è stato perso È stato intervato Va Va Non c'è bisogno di riflettereci più di tanto In poche parole Ecco i Mantis Utilizzate solo e unicamente Questi veicoli Quando ne avete la possibilità Cioè non pensate di farvela a piede A meno che Non siete un po' masochisti Oppure Volete giocare proprio In modalità fanteria Che è un Mantis Velocizza tutto il progresso della missione Insomma C'ha una potenza di fuoco davvero non trascurabile Attenzione ai Grunt Per te e anche agli Elite Perché alcuni sono armati di lanciorazzi E succede che a difficoltà più elevate Una piccola granata al plasma E un corpo di cannone a combustibile È capace di stendersi Attenzione anche ai Jack armati di fucile da cecchino Sì in poche parole Attenzione a tutti quelli che hanno un'arma in mano Che solverete i problemi E fargli fare problemi Distruggete i cannoni dei Phantom E la fanteria che sgancia I Drive I Ghost Se poi volete godervi una bella esplosione Sì massacrate il Phantom Fino a farlo esplodere Comunque è sempre consigliato Fare fuori il cannone del Phantom Per poi concentrarsi su altri nemici Perché il Phantom in poche parole C'è Ha due mitragliette ai lati Facilmente Facilmente distruttibili E poi il cannone sotto la testa appunto della navicella Che è quello che può creare molti problemi Fatelo fuori Aspettate che lasci il suo carico Quindi subito anche il suo carico Attenzione ai Bright Attenzione davvero ai Bright con il Mantis Perché è debolezza del Mantis appunto che Se un Bright carica Cioè attiva il Turbo E cerca di venirvi addosso Il Mantis perde Poche parole Il punto debole del Mantis Sono le gambe Questo è un consiglio Prendetemi mila sempre le gambe Quando siete su un veicolo Come un Warthog O un Ghost Perché la quantità di danni Che infliggete alle gambe del Mantis Aiuta a tirarlo giù Molto più velocemente Cioè è molto più efficace Un approccio così Sfruttiamo i suoi lanciarazzi E le sue infeggiatrici Nemici ovunque 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 Non possono lasciarci in pace Naturalmente E adesso arrivano anche i Banshee Un po' a divertirsi Precedenza ai Banshee Assolutamente Precedenza ai Banshee Che tra le loro mitragliatrici Le loro acrobazie E le loro bombette verdi Fanno davvero male Cioè creano davvero Dei danni Utilizzate i lanciarazzi del Mantis Lievemente Cioè missili Quasi guidati Tirate lì Uno a due Sì questo combattimento Cioè come potete notare Il Mantis è davvero più efficace Contro i velivoli Che contro i veicoli Sembra appunto Un veicolo Più anti-aereo Che Anti-veicoli da terra Sua combinazione di armi Lo rende eccezionale Io naturalmente Sono un maniaco Di questo veicolo Se lo trovo nel multiplayer Corro e lo prendo E ne assumo il controllo Il prima possibile Se volete assumere il controllo Di un Mantis Utilizzato da un avversario Vi dico già che Andargli di pronte Vabbè Se lui non vi ammazza Ok Comunque L'approccio migliore Per prendere il controllo È da dietro Voi da dietro Saltate E tenete premuto Il Così si prende il controllo Del Mantis Cioè potete Scere se il rischio Naturalmente Altri Banshee Qui naturalmente Non è che Questa si è una mappa Dove principalmente Bisogna fare fuori La maggior parte Dei nemici Per procedere Proseguiamo Ecco Già Banshee Buggati Cosa eccezionale Banshee Super Buggato Naturalmente Rifacendolo Cioè Se voi Vi mettete a girare Per la mappa Ne troverete A centinaia Cioè non a centinaia Comunque Almeno 5 o 6 Buggati in questo modo Cioè Che sono a terra Con il muso a terra Ancora guidati Ancora comandati Da un elito O quel che sia Ma comunque Con il muso a terra Che non fanno più niente Cosa è sparta Propulsori Non è un I propulsori Non sono Qualcosa Che è consigliato Acquistare Del multiplayer Perché naturalmente Lo scattino che fanno È una cagata Cioè È qualcosa di piccolo E Inutile Alcuni li usano Io non so Per quali motivi Cioè se voi Lo paragonate Allo scatto Della campagna O Allo scatto Del Della modalità Flood Del multiplayer Lo scatto Nel resto Delle partite Multiplayer Nel resto Delle modalità È una cagata Fa un metro Velocemente Buono Flood Invece Si fa anche Metà mappa Se lo si Vestisce con il salto E E qui nella campagna Insomma Già è decente Più utilizzabile Ecco La nave Del Del didata Non si fa Particolare Problemi A A Prendere Il Compositore Pesante Ma non Innamovibile Sto Compositore Maledetto Poi ci si Mette anche Cortana Strafatta Che Non si Sa gestire Naturalmente Più La situazione Ed eccoci qui Nella sala di attesa Proprio in attesa Che queste maledette porte Si aprano E Facciano continuare Rivelli Istituto Pegasi Eccola Io Segnale stabile A livello 3500 Ponte B Grazie Cortana Attesa Attesa Su attesa Si 5 minuti Del gioco Li passate qui Ad aspettare Che quella porta Si apre Senza niente Vabbè Ecco Ed ecco La cinematica Si La cinematica Finale Del gioco Di questo livello Ragazzi Grazie a tutti Per seguirci Ci vediamo Con La prossima puntata Missione finale Più epilogo Ricordatevi Qui è Nava Dello staff Di Game Start News Ciao a tutti Cortana Puoi accedere Alle difese Della stazione Non rispondono Cortana Ci Eh Eh Per Ci Stai bene? Ho monitorato il flusso di dati. Li ho sentiti. Muoviamoci. Queste persone sono morte. E ne moriranno altre se il didatta raggiunge la terra? Ti assegneranno un'altra IA. Forse un altro modello Cortana, se Alzi lo permetterà. Te lo puoi scordare. Non sarò io. Questo lo sai, vero? Sto preparando un brosword nell'hangar C11. Quello che ti ha fatto la bibliotecaria ha funzionato. Cortana. Non è finita. Non ancora. Non ancora. Tutti. Non ancora. No c'è. Qu'è? Non ancora. Qu'è? Qu'è? Qu'è?